buongiorno grazie di essere qui con me oggi oggi voglio portarvi in un esperienza rilassante a cinque stelle siamo a san cassiano in valpadia e qui vedete la vista è meravigliosa e questa si chiama sky pool appunto la piscina che ha la vista migliore quello appunto si la vista all'alto e poi se riesco vi farò vi farò appunto fare un giro in generale sono circa le sette di mattina c'è appena stata l'alba e i colori sono meravigliosi e c'è una pace incredibile quello che sentite è il motore della piscina che si è appena avviata e nulla vi ci porto dentro subito spero che mi sentiate bene lo spero dal profondo del cuore mi faccio sentire un po di sfoghi d'acqua e poi vi porto un po in giro c'è anche una ragazza che mi guarda da una finestra perché ecco come vedete abbastanza calda perché vedete i vapori e dopo vi giro anche che c'è una pista un po di sfoghi d'acqua un po di tappi quello che vedi qui il questo palo di ferro è ciò che tiene la piscina ancorata sotto nel senso che una piccola parte di questa piscina è sospesa non tutta ci sono il pari che hanno tutta la piscina sospesa questa in parte non so se si è un tiraniero 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 non so se si è una piccola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in una stanza relax e io spero che questa musica non abbia copyright. Qui ci sono tutti dei lettini relax. E qui ci sono delle altre portrone relax. La cosa bella di questi posti è che sono tutti fatti in legno. Qui c'è una specie di appunto letto con vista foresta bellissimo. E adesso vi ci porto dentro. E' una cosa meravigliosa, super così, ti senti super protetto. Aspettate, lo faccio dire all'interno. All'interno è fatto così con questi cuscini, tutto in legno, la poltrona e la pista. Eccoci qua. Qui siamo, penso, nel... Questi sono sempre occupati, infatti adesso è appunto presto, sono sempre occupati. Quindi diventi fortunato, fortunata di essere qui. Adesso ti porto anche dentro proprio a vedere la vista. Eccoci qua. Adesso ti lascio un pochino, anzi a fine video ti lascerò un pochino qui a rilassarti con questa vista. Ok? Bene. Però adesso continuiamo al giro. Però quanto è bello, quanto è, quanto ci si sente protetti. Ecco. Però quanto è bello quando ci si sente protetti. Incredibile. Vedete? Vi faccio fare il giro. Vedete? Qui dove eravamo. E qui c'è la vista. Sulla piscina esterna. Si vede un giuvolo. Per il controlucio, però non si vede le montagne. Finatevi di me. E qui si entra nella spa, quindi diciamo nel luogo in cui ci sono tutti quei trattamenti che si possono fare come la sauna, il bagno turco, eccetera eccetera. Invece poi c'è un'altra spa diciamo in cui si fanno i trattamenti a pagamento, tipo massaggi, queste cose qui. Qui c'era il primo bagno turco un po' più blando, a 45 gradi se non mi sbaglio. Esatto, a circa 45 gradi. Per chi non lo sapesse il bagno turco è una sauna umida, molto umida. Io la leggo molto meglio rispetto alla sauna classica. E qui non si vede molto perché è molto scuro ma c'è del sale. In ogni alberg è diverso però comunque se ti danno del sale da metterti sul corpo, spalmarti sul corpo e farti un po' di scrub approfittando del fatto che dentro si è tutti diciamo sudatissimi e quindi il sale scorre bene. Questo è all'interno del primo bagno turco. E qui invece ci sono le dozze diciamo che fanno anche cromoterapia. C'è cromoterapia e questa è una doccia idromassaggio quindi l'acqua usciva da pioggetti anche laterali, molto rilassante. Qui come vedete è organizzata tipo a laghetto, non so, ricordo un po' laghetto tibetano o cose del genere. E molte spa in questi alberghi sono fatte in questo modo. E poi qui troviamo l'altro bagno turco, quello a non mi ricordo quanti gradi ma un po' più tosto. Vedete qui è fatto un po' diversamente anche per coprirsi perché esatto questo ci si fa senza vestiti, senza costume, senza niente. E qui invece c'era questo diciamo sono le bracci per la sauna invece classica tradizionale che era un altro posto dell'albergo. Ho visto bellissimo. Ho visto bellissimo. questo momento per te. Immagino proprio di essere qui con la schiena appoggiata ai cuscini, con le gambe sotto queste coperte comodissime, morbidissime. e ti si stanno pian piano chiudendo, chiudendo, chiudendo gli occhi e proprio il tuo corpo si lascia andare e si rilassa. Adesso inspira e ti ispira profondamente. Ti ringrazio di aver guardato questo video e adesso cogli questa vista e questa musica rilassante. Buonanotte che li spero. Buonanotte che li spero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.